Musica Ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino come sempre molto seguita e questo ci fa molto piacere davvero da tanti di voi che ogni giorno si sintonizzano alle 7.30 e anche nelle repliche per vedere i giornali una sfogliata ai quotidiani Corriere Adriatico e Resto del Carlino Allora, il santo del giorno, vediamolo subito, il santo di oggi oggi la chiesa cattolica celebre ricorda i santi primi martiri il sole è sorto alle 5.29 e tramonterà 5 minuti prima delle 21 il tempo, oggi avremo tempo perturbato, un tempo che via via da soleggiato così come si presenta questa mattina alle 7.30 comincerà a peggiorare fino ad arrivare le nuvole con precipitazioni temporali stasera su gran parte della regione Marche saranno fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio temporale le temperature saranno in diminuzione oggi, lieve, i venti moderati sud-occidentali il mare sarà poco mosso, domani mattina ancora nelle prime ore della giornata avremo qualche residuo a pioggia sparsa della notte a carattere di rovescio temporale limitatamente alle zone dell'entroterra, le zone montane centro-settentrionale le temperature domani saranno ancora in lieve diminuzione, i venti dai quadranti meridionali il mare sarà poco mosso, domenica il tempo sarà ancora perturbato con possibilità di locali rovescio temporali pomeridiani nell'entroterra e non è escluso che qualche cosa possa arrivare anche in collina un po' meno magari sulla costa però domenica insomma per chi voleva passare una giornata al mare con sole pieno bisognerà aspettare, aspettare cosa? La settimana prossima quando appunto la rimonta del campo barico determinerà condizioni di tempo stabile allora la prima pagina, la prima pagina del resto del Carlino è sulla notte delle razzie è stata assaltata la sede della Confcommercio a Pesaro sono state aperte due casseforti, il bottino di 10.000 euro la rabbia del capo, la rabbia di Varotti spaccata a Campanara, sparisce, un carico di vestiti poi troverete nella pagina interna di Fano l'infuso della nonna che mette il pugile KO la donna aveva preparato una bevanda energetica per il nipote che fa pugilato e ha usato tra le varie erbe anche l'oleandro che è velenosissimo ora lui si trova ricoverato in ospedale poi sempre nelle pagine interne case a luci rosse, il blitz della polizia a Fano sono state allontanate due bellissime lucciole romene dirigente di banca anche tra i clienti come apre invece il Corriere Adriatico anche qui con la sede della Confcommercio saccheggiata la rabbia di Varotti, dice siamo arrabbiati e anche beffati, una banda di professionisti in azione al palazzo di strada delle Marche dove appunto sede la Confcommercio e poi c'è stato un altro colpo in un'altra zona dove hanno saccheggiato 5.000 euro ok poi l'intervista al governatore delle Marche Ceriscioli Ceriscioli che manda dire al sindaco di Pesaro Ricci non sai dove vivi schiaffo di Comi, il segretario regionale del PD per la Morani l'unica abusiva del PD è lei ci deve 10.000 euro il governatore parla di giunta ad allargare e del fatto che insomma lui intende comunque andare avanti dal Corriere Adriatico scoperto un giro di squillo in città scovate e cacciate dalla polizia sette prostitute alcune ricevevano in appartamento altre invece in strada a Metauriglia blitz in due case di Via Nolfi e Sassonia favoreggiamento contestato ad un proprietario e al fratello di una donna che si prostituiva a Metauriglia gli agenti si sono finti clienti per verificare direttamente l'attività trovati giochi erotici e anche video pornografici controlli a tappeto nell'arco di una settimana da parte del commissariato di Fano poi sotto sulla pagina di Fano sempre del Corriere la siccità che uccide la fauna mentre la grandine l'agricoltura l'emergenza al canale Albania affrontata dal personale dell'Aso gravi invece i danni alle culture l'altra sera c'è stata questa grandinata seppur breve ma insomma è stata abbastanza intensa e quando grandina sapete i danni che fa all'agricoltura la pagina di Fano del Carlino invece apre con questa notizia che riguarda una nonna che ha avvelenato il nipote per sbaglio gli prepara un infuso di oleandro come ricostituente un pugile di 23 anni, un fanese giovane promessa del pugilato italiano è stato appunto messo KO dalla nonnina che inconsapevolmente gli ha servito con amore una bevanda purtroppo insomma velenosa in un primo momento pareva che quel ragazzo fosse stato colpito da un infarto dal centro alla periferia una città luci rosse Fano, la polizia scopre appartamenti in Via Nolfi Via Dante Lighieri e Lucciole a Metauriglia alcuni avevano prezzi più alti della media e una clientela insospettabile che arrivava anche dalla vicina Pesaro A Urbino invece evasione fiscale Robur sequestrati un milione di euro nei guai Giancarlo Sacchi, la figlia e il genero sigilli sulle case e i conti correnti L'inchiesta è quella che vede indagati per evasione fiscale l'ex presidente della Robur Tiboni nota squadra di volle di Urbino Giancarlo Sacchi, sua figlia e il genero L'inchiesta è arrivata l'altro ieri ad una svolta, le fiamme gialle hanno setacciato conti e movimenti delle società controllate La prima pagina di Senigallia del Corriere Adriatico scoperta la centrale dello spaccio clienti in fila per acquistare la droga la polizia si apposta al Ponte Rosso e incastra il pusher cinquantenne Il senigallese è stato denunciato dagli agenti diretti dal vicequestore aggiunto Licari Fano Jazz, la musica basta un euro per vedere i big mondiali l'edizione di quest'anno l'edizione By The Sea punta sui giovani e il Carlino pubblica tutte le novità e tutte le date con i nomi oltre alla Rocca Malatestiana parliamo delle location cioè dove si terranno questi bei concerti oltre alla Rocca Malatestiana di Fano anche il teatro dell'area di Gradara e i prati della Golena del Furlo Spacciatore insospettabile a Mercatello sul Metauro è stato arrestato si tratta di un 21enne che riforniva un ampio territorio e a pagina 21 troverete anche che Cantiano il comune di Cantiano grazie alla raccolta differenziata porta a porta è riuscito a raggiungere il 75% di raccolta differenziata le altre pagine ancora dalla rassegna stampa il Corriere Adriatico saccheggiate la Confcommercio casseforti svuotate uffici razziati allarmi neutralizzati telecamere girate nel Palazzo di Strada delle Marche in azione una banda di professionisti e attenzione perché ormai non è una novità ma insomma c'è un'impennata di furti soprattutto per quanto riguarda le biciclette che per quanto uno tenda a metterle a preservarle da spiacevoli guai insomma purtroppo anche se chiuse nei garage legate ai cancelli dentro i cortili nonostante tutti gli accorgimenti e le precauzioni i furti di biciclette ahimè aumentano con l'estate e un po' il Corriere scrive in tutti i quartieri della città di Pesaro ma questa notizia potrebbe essere scritta per tutte le città d'Italia inaugurazione e restiamo a Pesaro con tregua per la pista ciclabile di via Milano l'assessore Belloni dice il comune ha dovuto mediare tra le esigenze dei residenti e quelle dei negozianti c'è stato questo taglio del nastro con sindaco e amministratori ieri appunto in via Milano a Fano invece c'è questa iniziativa in piazza 20 settembre tutti i giovedì sera fino alla fine di agosto dove la piazza verrà gestita verrà regalata ai bambini ogni settimana sarà caratterizzata da un'animazione differente coordinata dallo staff della città dei bambini e dei bambini in collaborazione con il paese dei balocchi per appassionare e divertire tutti da 0 a 90 anni mentre il giornale ricorda che tutti i giovedì così come i mercoledì e i venerdì i negozi resteranno aperti di sera fino alle 23 e 30 il consiglio comunale di Fano sul fondo Cives i consiglieri sono stanchi salta il dibattito sulla sanità due sedute dunque non bastano a discutere quattro documenti voto ignorato Fulvi presidente del consiglio decisiva atti di vandalismo invece a Mondolfo ragazzini che pericolosamente si siedono sul ponte pedonale giallo di via Aldomoro sospesi nel vuoto a 6 metri da terra oppure lampioni in frantumi e una porta finestra rotta scritte sui muri insomma c'è anche un principio d'incendo non manca nulla e adesso si cerca di capire anche perché c'è disagio tra i residenti per questo gruppo di ragazzini così molto attivo si cerca di capire un po' come porre rimedio a questa situazione l'ultima pagina è da Senigallia perché c'è il Caterraduno e dunque sono attese tantissime persone per questo evento senigallese il centro storico a Senigallia è blindato in 1500 alla cena dello chef Cedroni tutti i divieti da rispettare le strade sono off limits e c'è anche una task force di polizia, carabinieri e forze dell'ordine schierata soprattutto per le serate più a rischio allora la rassegna si chiude qui noi ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale vi ricordo il 338 49 68 250 il cellulare che potete memorizzare sulla vostra rubrica del telefono e poi utilizzare per segnalarci per segnalarci ciò che accade attorno a voi grazie per averci seguito buona giornata e a stasera 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 a stasera